Il nostro campionato fa più possesso palla, questa sera sta trovando dei difficoltari Ma cosa è questa sera? E' iniziato, è iniziato, è iniziato Levategli il dio Quanto gli piace Si è buttato, si è buttato Si è buttato Quanto ti piace Quanto ti piace buttarti, scivolare se hai una pippa Non sei nesta Maledetto Pippa Bravo Che intervento è? Ma a che serve? Ma a che stai in anticipo? Per favore, su Io sto da su Dai Rene, Rene, Rene è imbarazzata Rene è imbarazzata Come si fa a prendere un mondo genere? Sì, però la difesa è veramente male Cioè, ma come? Ma lascia i vestiti, è una carisaia e gli spiegel Ma come si fa a prendere un mondo genere? Ti ha ritardato gli spiegelibili, capito? Per fare scivolate Oh bella, ragazzi Guarda che passaggio che gli hanno fatto per la pista Sì, è certamente incredibile La difesa era su terra Eh? Sulla sinistra, sulla sinistra Guarda che è forte Guarda i sai Ha sbagliato tutto i sai Ha sbagliato Sì, ma i sai non ha tenuto l'area difensiva Altrimenti era in fuorigioco Poi Rene va bene, non pare Quindi Difficile Mi hanno capito tutti Il secondo palo è una cacchetta Sì, sì Tranne Rene Rene sta fermo non si muoveva fermo non è che si fa così non è che si fa così ecco adesso per esempio se tu vieni a sapere che le auto ha il problema della caviglia destra devi fare un bel panno sulla caviglia destra così si fa vero? no? io l'avrei fatto ti sbrago la caviglia destra vedete in poi che devi fare è pure segnato cioè se se non prendiamo quel cazzo di gol no ma adesso ci pensiamo noi a farci da soli il gol del ecco ma ci vai chiamarlo guarda che sta a quel caso vai al soleau cretino è perchè abbiamo portato palla vecchio vecchio cosa che non devi fare male il calcio portare palla all'avversario ecco ma tanto adesso ci pensiamo noi a farci da soli il gol del una deviazione finale appunto impressione sui difensori della Lazio si sicuro il misterio parla che sta sotto il parale di gioco e se questa è una cosa della catalog dici che deve essere là non è che faccio ma anche se non è che è un'altra cosa lui è un'altra cosa basic è cresciuto tanto adesso lo sia ambientato forse è addirittura basic il gol il gol il gol il gol il gol il gol non l'ha toccato non l'ha toccato maledetto maledetto stava aspettando che lo toccava non l'ha toccato però l'ha anticipato dai non l'ha toccato maledetto 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 c'è una partita assolutamente equilibrata solamente che tu fai gli errori e gli altri e loro no stiamo tutto lì fai una palla al centro campo su un appoggio da 2 metri e metti gli altri un contropiede allucinante l'altro balla innocua quello non sta sulla linea a fuori gioco ma lo lascio in gioco che vuoi giustamente più a zero però è diventato unito con Amarga Amarga come sta? come sta? a Mallorca come sta? a Mallorca a Valencia no, dove sta? a Mallorca dai ma che è? ma ragazzi ma che cos'è? non ci stanno parlando un cazzo di questa è una cosa imbarazzante ti ho detto che c'è da si ma ma perca puttana ma hai due terzini stanno dormendo stanno ma no invece i centrali che stanno in grande in grande forma ma dove gioca questo? a Mallorca a Mallorca poi c'è una tenita emotiva a questi ragazzi veramente guarda questo non mi importa da solo ora sono 5 contro 1 si si lo so eh ma io lo so guarda guarda Marosic guarda Marosic tra Patrick e Marosic lì sta la fai danni ieri eh 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 i detti cioè c'ha le idee chiare però non ci dice quali sono cioè se ne va cioè se ne va tra Lazio spero spero che queste siano le idee chiare basta la sky wifi la firma forte con me l'uva 100% ultra veloce per navigare tutti con la massima protezione io metterle i cammini dici a me non ho avanti anni poi fare il stesso cambio lo scambio doppio con Felipe Anderson che fa in profondità le sue spalle teo e 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 teo questo che vado vieni questa cosa eh le ultime settimane è proprio una meraviglia guarda gli accalciavo sul piede bene il bene è meglio, lo vedo in grande forma bene, così la nazionale non c'era affanculo la nazionale la nazionale proprio non ce ne può fregare me la nazionale facessero giocare a Balotelli in nazionale la qualità della partita per le speranze della Lazio che naturalmente si riuscita a mano che passa il tempo quello che si merita in nazionale quello è questo che è tutti schiacciati giusto per confondere il portiere che ha dei grandi investi c'è la palla rimasta lì se lo fatti segna fuori da essi incredibile guarda che fuori gioco, scusate c'è quello davanti del Reina c'è Mario che si è messo lì c'è Mario che si ce le tiene tutti una bomba no? direi alla grande è bello trasferto, è intelligente che fai? che fai? giusto così per ricordarvelo a merde, a schifosi dai vincete in cazzo non vincete sovanni che non vince niente e anche quest'anno zero vabbè vabbè